Salve a tutti amici di Youtube, come promesso apertura del mega teen di Tiger King e quindi apriamolo Mi sembra la mia ragazza ovviamente Salve Dai apri Apriamo il teen Oh mio Dio Si è impacchettato come vedete Ok Ok Ti dà questo Mannaggia la mia se Ok qua abbiamo le Ah ok Si è tutte Tutte insieme Wow Ok possiamo mettere già l'intatto Che diamine Dai rilasciamo la copertina Ok Cominciare ad aprire Ok qua abbiamo le promo cards Ok le promo cards Eccole qua Tiger King Gorilla Shark Ok andiamo ad aprire la prima bustina Quindi apriamo Andiamo sempre la suspect Ok come le prime quattro sotto mi sembra No sotto Le prime quattro qua sotto Uno Due Tre Quattro Ok in giro Ok andiamo a vedere le carte Vai Ok vai Così sembra di solito Ok vai vai Oh un Yamato minchia E anche un'altra Ok questo E questo Oh è un tizio rondo Ehi grande un burio Mi hai spostato un Yamato minchia Ok vai con l'altra Questo mi salva alle 7 euro Ci vogliono i biscotti Noo i biscotti Noo i biscotti noo Ehi questo è gran margurio Ogni volta sembra i quattro carte Aspere le carte Sopra o sotto? Sotto vanno sopra Ok si Ok vai Ehm Ero quattro Ah ok Non mi ricordo Un po' Ok vai 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 Che teneo Ok questa è l'ultra Ok Mi sembra che vedo un pro Wow Mondo della profezia E questo? Minchia LOL Sì sì la so che ho di LOL Dai si può stiminare Luca Un attimo Questo mi hai buttato Ah Lucard No no te lo sbusto io Sì sì Dai su su Eh e quattro Sì lo so Sì 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 lo so Ho già visto anche una Dimmi che è la nera Ok vai 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 Sto addormentando Ok vai Un merdù Che è un mangiatore di stelle Ah minchia mi serviva Ah almeno ma quando è un mangiatore di stelle Minchia Non sapevo che si trovasse Vabbè ragazzi queste sono le file come vedete Mmm posso dare Ah minchia è pure questa Wow Minchia sembra sei uno stronzo Posso dare Gli amato lo posso dare tranquillamente Per il resto anche lui penso Per il resto non penso E bugine si Ok niente ragazzi Ehm Lasciatevi un piaccio Un commento Iscrivetevi al canale E vedremo di Cioè vedremo cosa fare Nel prossimo video Non lo so Ehm Quindi arrivederci Al prossimo video Vi secco Sì Sì Parti Sì Sì